e veniamo alla narrazione sui vaccini solitamente chi si vaccina tende a dire mi vaccino perché ha un dovere sociale la corte suprema americana nel 1986 dice i vaccini sono presidi inevitabilmente insicuri senza voler considerare tutto il discorso psiconeuroimmunologico per il quale il nostro organismo ha tutte le risorse per affrontare lo stressor virus vediamo un po la narrazione ufficiale soli vaccini ci porteranno fuori dalla pandemia e ci consentiranno di tornare alla normalità ora sappiamo che secondo sia l'fda che l'ema solitamente la produzione di un vaccino richiede almeno 10 anni e dai 3 ai 5 di sperimentazione i vaccini approvati con procedura di emergenza a condizioni agevolate e a sperimentazione abbreviate sono possibili a queste condizioni per l'fda non ci deve essere un'adeguata approvata e disponibile altra alternativa per diagnosi prevenzione e quali le malattie in questione lema deve rispondere alla necessità medica non soddisfatta non esista un metodo soddisfacente di diagnosi prevenzione e cura autorizzato dalla comunità o anche se questo esistesse il nuovo prodotto deve rappresentare un maggiore vantaggio terapeutico per quegli effetti quindi diventa chiaro come tutte quelle terapie sono state in qualche modo bloccate riconoscendo una qualsiasi cura valida non si sarebbe potuto ottenere autorizzazione per i vaccini ma come mai ripensiamo alla catena di comando ripensiamo ai libri del direttore dell'ex direttore del british journal e adesso vediamo a proposito di manipolazioni delle masse il gioco del bastone della carota che viene attuato per costringere per rinforzare i vaccini questo è quello che ha dichiarato alla cnn e liana when professoressa di politica della salute alla george watchton university ci sono milioni di persone che per qualche ragione temono i vaccini e non capiscono quale possa essere il vantaggio per loro noi dobbiamo spiegare bene che il vaccino e loro lascia passare per tornare alla vita come era prima della pandemia e la finestra di tempo per farlo si sta restringendo se riapriamo tutto quale sarà la carota come faremo incentivare le persone a farsi vaccinare e qualche dubbio ci nasce ma poi il dubbio diventa certezza quando leggiamo questo questo articolo anzi questo libro questo libro di laura doddsworth e state of fair au de uk government wipponized fair during the covid 19 pandemic come quindi stato di paura così il governo britannico ha usato la paura con un con un'arma durante la pandemia di covid 19 questo libro è uscito in gran bretagna da pochi giorni e questa è scritto da gli psicologi stessi che sono stati contattati per fare questa operazione cioè gli psicologi del comportamento ammettono così abbiamo consigliato al governo di spaventare i cittadini durante la pandemia colida nel libro alcuni membri del scientific pandemic influence group on behavior cioè coloro che sono i consiglieri nel governo non nascondono il loro rammarico per le tattiche impiegate il gruppo nel marzo dello scorso anno consiglio al governo britannico di aumentare il livello percepito di minaccia personale perché in quel momento un numero notevole di persone non si sentiva ancora sufficientemente minacciato personalmente erano ancora pochi quelli che volevano farsi vaccinare david morgan uno psicologo del gruppo afferma chiaramente usare la paura come mezzo di controllo non è etico usare la paura sa di totalitarismo non è una posizione etica per nessun governo moderno per natura sono una persona ottimista ma tutto questo mi ha dato una visione più pessimistica delle persone questo scientific pandemic influence group è uno dei sottocomitati che in gran bretagna consigliano il gruppo scientifico consultivo per le emergenze e uno scienziato di questi dice a laura dodsworth a marzo del 2020 il governo era molto preoccupato circa l'obbedienza le disposizioni ritenendo che la gente non avrebbe voluto essere rinchiusa ci sono state discussioni sul fatto che la paura fosse necessaria per incoraggiare l'obbedienza e sono state prese decisioni su come aumentare la paura gioco facile in una pandemia emozionale il modo in cui abbiamo usato la paura è distopico l'uso della paura sicuramente è stato eticamente discutibile è stato come uno strano esperimento alla fine si è ritorto contro di noi perché la gente si è spaventata troppo questo è criminale questo è delinquenza ricordiamoci che la paura blocca le difese immunitarie deprime difese immunitarie blocca tutto il percorso il circuito che di cui parlavamo cronicizza nella reazione d'allarme impedisce l'organismo di difendersi è stato fatto ad arte si fa fatica a mantenere la compassione in un caso del genere deve aumentare ancora di più la nostra apertura il nostro sguardo amorevole e compassionevole confronti di questi disgraziati un altro membro della spi dice nel libro la psicologia si potrebbe chiamare controllo mentale questo è ciò che facciamo chiaramente cerchiamo di farlo in modo positivo ma in passato c'è stato anche un uso nefasto un membro del comitato avverte che la gente usa la pandemia per prendere il potere fare passare cose che altrimenti non accadrebbero dobbiamo stare molto attenti sull'autoritarismo che si sta insinuando e un altro dichiara senza un bacino la psicologia è la tua arma principale di fatto la psicologia ha avuto a disposizione una buona epidemia e io direi una migliore ancora la pandemia emozionale criminalmente enfatizzata favorita manipolata oltre che per gli avvenimenti spicci sul pericolo del virus il governo è accusato di avere nutrito la popolazione con una dieta non stop di cattive notizie a base di morti e ricoveri senza mai contestualizzare le cifre per esempio spiegando se il numero di morti giornaliere era superiore inferiore alle medie stagionali e questo lo vediamo chiaramente nei nostri tre giornali qui è dichiarato quando salterà fuori la manovra anche negli altri stati e vediamo alcune voci critiche sui vaccini che sono le voci dei medici che abbiamo citato in precedenza oggi esistono un milione e mezzo di varianti di sars covi 19 e aumenteranno sempre più grazie alle vaccinazioni creando pericolo per la popolazione tutte queste affermazioni sono raccolte nelle referenze bibliografiche che trovate alla fine parliamo di proteina spike sia che il vaccino che i vaccini siano a vittori a vettori virali come l'astra zeneca cioè veicolati da vettori virali di champanzee coadiuvati con le proteine spike sia che siano prodotti da rna virale queste proteine spike in ogni caso sono tossiche perché vanno a lungo andare a creare una situazione di iper immunità o a breve tempo se le persone hanno già una tendenza trombofilica coagulopatica se si facesse un esame tre vaccinale risulterebbe molto facilmente che nel 20 per cento della popolazione presenta una mutazione cosiddetta mthfr che tende la trombofilia il sistema riesce di solito a compensare questa situazione che è su base recessiva che non verrà mai fuori ma se noi stimoliamo il sistema immunitario con proteine spike che sono trombogeniche perché attivano il fattore fp4 delle piastrine che circolano metano il sangue produciamo un fenomeno di per coagulazione che può portare la trovembolia icto cerebrale infatti del mio cardio intestinale oppure la vaccino resistenza quando tra 369 mesi vaccinati si troveranno di fronte a un fenomeno che si chiama potenziamento dipendente da anticorpi ci sono 7747 dati scientifici su pad med che documentano il fenomeno la persona sgruppa anticorpi non neutralizzanti cioè che non coprono tutte le forme mutanti ma rimangono in circolo quando la persona vaccinata viene in contatto con virus molto simili si verifica un fenomeno che si chiama interferenza virale collegato con omologia di sequenza perché ci sono sequenze entrano delle basi nucleotidiche dei virus e si verifica una relazione immediata dai macrofagi che crea il potenziamento dipendente dall'anticorpo noi abbiamo decine e decine di covi nel corpo simili questo fenomeno non dico che sia una certezza ma senz'altro non è una rarità si verifica cioè una reazione a cascata delle citochine e quella situazione tempo trombotica che può essere generalizzata determinata in particolare delle proteine skype che sono tossiche perché attivano come abbiamo detto il fattore fp4 in più consideriamo che gli anticorpi da vaccino hanno durato di sei mesi ogni sei mesi questo dovrà ripetersi oppure c'è quello che leopoldo salmazo chiama il paradosso del calabrone quando le cellule eseguono qualsiasi programma sulla loro membrana compare un codice specifico come l'insegna all'interno di un negozio qui è successo questo se tutto fila liscio cioè se il vaccino funziona le cellule lavorano indisturbate assieme alla proteina spike del covid e in seguito tutto sistema immunitario neutralizzata prontamente gli eventuali intrusi che inibiscono quella proteina ma se quell'insegna viene interpretata in modo anomalo e questo nessuno può saperlo l'immunità dell'ospite reagisce contro le proprie cellule anarchiche questo determina un'infiammazione violentissima e disseminata compresa la fatidica dicevamo prima tempesta citochimica con coagulazione intravascolare gravi compromessi d'organo fino anche alla morte del paziente luca montagna e nobel per la scoperta del virus hv i detrattori adesso dicono che rimbambito e gli dice leggo testualmente accettare questi vaccini che dovrebbero essere sviluppati in molto più tempo è un errore perché rischiano di avere effetti assolutamente imprevedibili come tumori organi che si mettono a proliferare eccetera stanno facendo gli appendisti stregoni utilizzando le sue persone senza prevederne le conseguenze l'uomo non può essere utilizzato come cavia i bambini non possono essere utilizzati come cavia non è assolutamente etico non è possibile che siano dei morti a causa dei vaccini non siamo in grado di prevedere quello che succederà per la relazione 1 2 3 4 5 dopo le vaccinazioni e questo ci porterà in un altro secolo non domani non dopo domani un altro secolo e non possiamo accettare il rischio per i bambini i ragazzi tutte le generazioni attuali il vaccino non è la soluzione ci sono trattamenti e terapie lo abbiamo visto che possono funzionare e costano poco azitromicine indossi colochina e altre che provengono da rimedi naturali quindi non possiamo stare fermi ma bisogna agire giustamente alla domanda vi fareste vaccinare no certo che no certo che no altre notizie sui vaccini durante la pandemia non ci si vaccina perché si aumentano le varianti non si vaccinano le donne in gravidanza non si vaccinano gli anziani oltre 75 80 anni perché loro la capacità immunogenica è bassissima e la si abbassa ancora di più gli over 75 non hanno la capacità di sviluppare anticorpi perché non si fa degli esami post vaccinali cioè vedere quanti anticorpi sono stati sviluppati dopo il vaccino si dovrebbero fare esami pre vaccinali per vedere chi può essere vaccinato e post vaccinali per vedere se la scientifico scienza per vedere se il bacino ha funzionato davvero ricordiamoci che il più famoso ricercatore sull'efficacia dei vaccini che non ricordo il nome per quello sentito in un video non ho capito bene e non ho trovato altri dati ma i dati vengono dal dottor mastrangelo dice che la reale efficacia di un vaccino va dal 19 al 29 per cento e per gli over 75 al di sotto del 10 per cento grazie a tutti